Un saluto, ben ritrovati da Milanello, la casa dei milanissi su youtube, buona settimana, settimana che ci porterà alla festa di venerdì del nostro canale youtube, vi aspetto numerosissimi al fil di seregno, ingresso 15 euro complessivo di consumazione per il cena, vi aspettiamo, mi raccomando, qui sotto il numero per prenotare i vostri posti, anche perché siamo già tantissimi, vi aspettiamo, mi raccomando, lasciate un bel like, se volete, conte o un allenatore comunque vincente, voglio vedere quanti like, commentate, iscrivetevi anche al mio canale personale che vi metto qui sotto nel link in descrizione, siete tantissimi anche lì, parlo anche e soprattutto di Milan, anche temi che qui non tocco. Settimana che ci porterà al nome del prossimo allenatore? Secondo me, ecco, sicuramente ci avvicinerà alla scelta del prossimo allenatore e spero tanto che arrivino alla conclusione già in questa settimana, secondo me andava già fatto prima. Signori, siamo al 29 aprile e da quello che risulta, da quello che ci dicono, non sappiamo ancora chi allenerà il Milan nel prossimo anno. Ieri abbiamo visto delle immagini che anche se provavi a non vederle in qualche modo sono arrivate o sul social, telefonino, telegiornale, eccetera, eccetera, di quella che è stata la loro grande festa e devo dire che sono immagini che ci fanno male. Le abbiamo vissute due anni fa, potevamo comunque avvicinarci a riviverle, invece ci siamo terribilmente allontanati negli ultimi due anni, da quando è arrivato Cardinale nel Milan. E oggi bisogna capire che cosa vogliono fare da grande, i tifosi sanno che cosa vogliono fare da grandi, cioè vincere, perché sono tifosi del Milan e sono ambiziosi, dalle altre parti invece la sensazione è che o questa chiarezza non ci sia o forse ci sia un pensiero molto mediocre, cioè quello di arrivare nei primi quattro posti, soldi garantiti dalla Champions League, bilancio a posto, bilancio inattivo e va bene così. Io noto una cosa e mi fa male dirla, però io sono sempre per l'onestà, la sincerità, la trasparenza anche quando fa male, ma bisogna riconoscere certe cose e non bisogna indurare la pillola a nessuno, mentirei a me stesso prima che a voi, è sicuro che anche voi l'ha pensato uguale, da una parte loro hanno appena vinto la stella, la seconda stella seppur con un cartone e ieri esibivano lo scudetto del cartone sulla curva, arrivati terzi, non so quanti punti dall'Inter e quanti dal Milan, più dieci sull'Udinese, più vicini al quarto posto che al primo, detto questo hanno vinto lo scudetto, avranno lo stesso allenatore, la stessa dirigenza che è molto forte, Marotta e Ausilio, hanno una squadra che è molto forte, hanno già aggiunto Zielischi e pure Taremi, hanno Buchanan che di fatto sarà come un nuovo acquisto e noi perdiamo comunque Giroud, perdiamo come carisma anche lo stesso Florenzi, vedremo se partirà qualcuno, non sappiamo chi c'è in panchina, abbiamo una dirigenza che non sanno nemmeno loro forse chi deve fare che cosa e chi non deve fare che cosa, da quello almeno che arriva fuori, dal messaggio che trasmettono e che ci arriva, quindi da una parte purtroppo chiarezza, ambizione, forza, dall'altra oggi confusione, apparente mediocrità, poi spero che diventi invece ambizione e che si possa vincere noi il prossimo anno lo scudetto, però per farlo non puoi sbagliare mezza virgola, a partire dall'allenatore che è una cosa fondamentale, poi è vero eh, l'allenatore da solo non fa nulla, però se già hai una dirigenza metti un attore la stagione è quasi scontato che che non ti porta a vincere nulla, se tu hai una dirigenza e metti un attore bravo sicuramente puoi competere di più puoi avere una dirigenza top e un allenatore top sarebbe il massimo ma in questo momento non abbiamo una dirigenza top e un allenatore top lo potremmo prendere io ragazzi dico una cosa e anche qui mi fa male ma è lì trasparente, limpido, solare Marotta che è il miglior dirigente in Italia il 2 maggio del 2021 parlava così del ruolo e della scelta di Antonio Conte questo è un messaggio che dovrebbe arrivare alla nostra società meglio prendere un giocatore in meno e un allenatore bravo che un giocatore in più e un allenatore scarso il suo stipendio va di pari passo con le sue qualità firmato Beppe Marotta che riceveva poi le frecciatine tutto quello che volete ma vinceva ha vinto lo scudetto e di fatto con Conte ha restituito credibilità al progetto sportivo dell'Inter meglio un giocatore in meno ma Conte questo è Marotta se senti invece Furlani Furlani lo senti domanda ma dove andrete a operare sul mercato in che posizione ah no no è già la seconda barra terza volta che risponde così queste cose tecniche dovete chiederle alla Jeff sempre un disco rotto Jeff Moncada e a Zlatan ma allora se tu non entri nelle scelte tecniche e ti chiami fuori perché non ne hai la competenza non entrare nemmeno nelle nella scelta dell'allenatore invece ci entra in come è un peso specifico evidente e non so chi me lo scriveva di voi ieri questa cosa però sono molto d'accordo quando senti parlare Furlani sembra che reciti un copione dei dei comunicati letti e studiati quasi a memoria ma non ti dà nulla di più questa è proprio la sensazione anche a livello comunicativo poi è un comunicatore scarso ma è un bravissimo dirigente della comunicazione chi se ne frega ma oggi la comunicazione è diventata uno strumento anche per essere bravo dirigente per l'esterno per l'opinione pubblica per i tifosi per il palazzo per gli agenti eccetera per gli altri dirigenti quindi secondo me questo aspetto qui lo condiziona un po' in tutto e Lopeteghi intanto dico una cosa una curiosità che ho che ho recuperato i tifosi dell'Ulberhampton sua ultima esperienza in panchina hanno rinfacciato e rinfacciano a Lopeteghi di non aver fatto giocare uno dei loro giovani migliori per far giocare un 34enne andato via Lopeteghi gioca questo giovane ed esplode quindi la teoria del è bravo con i giovani secondo me è un'altra frase a effetto anche perché i giovani nel Milan Terracciano Musa poi a parte vabbè quelli della primavera chi c'è Leo non è più un giovane Teo non è un giovane Tomori non è più un giovane sì ciao va verso i 23 consideriamolo ancora un giovane Florenzi non è un giovane Calabero non è un giovane Gabbia non è un giovane andiamo avanti Renders Loftus Cic Pulisic non sono dei giovani Ciuquezi non è un giovane Iovici non è un giovane quindi anche qui la frase il concetto del fanno uscire questa cosa qui pensando che ah noi beviamo tutto i giovani che bello il progetto di giovani ma non è che ci siano questi tanti giovani nel Milan i giovani sono i 20 21 anni 22 anni massimo e sono pochi e lui comunque al Wolverhampton li rifacciano ancora di aver lanciato un giovane di non farlo giocare per far giocare un 34 anni va via lui e il giovane esplode e fa la differenza cosa succede succede e condividete questo video sui vostri social se siete d'accordo mi raccomando mandatelo a un amico giratelo sulla bacheca ovunque voi vogliate succede che il nome di Lopeteghi era decisamente in poll sabato mattina sabato sera siamo andati a letto con lui in poll Lopeteghi ma con le quotazioni un po' in calo ieri domenica era un po' stabile ma sempre in poll tra l'altro ieri il Guardian in Inghilterra scriveva al West Ham non tutti sono d'accordo su Lopeteghi che è vicino alla chiusura col Milan quindi pensate Lopeteghi nel board del West Ham non tutti sono d'accordo su Lopeteghi e per noi deve essere la prima e unica scelta una genialata no dici stai stai vincendo la concorrenza del Real Madrid del Barcellona del Bayern Monaco su Lopeteghi prendiamo qui è il West Ham che quasi lo scarica stando a quello che scriveva il Guardian detto questo ecco in questo momento Lopeteghi resta in poll position e io ho una paura e un sospetto la paura è che possa essere lui poi qualcuno dice ma qui bruciamo perché c'è ovviamente siamo 105.000 teste diverse c'è quello che è ipercritico c'è quello che non critica mai quello che non critica mai dice ma avete già bocciato Lopeteghi prima di vederlo ok però ecco allora mettiamo dentro anche che ne so cioffi non bocciamolo prima di vederlo il curriculum il percorso sono tutte cose che ci dicono che non è da Milan non qualsiasi cosa che fa la società deve andare bene senza un merito minimo spirito critico non si va da nessuna parte se lo si fa per il bene del Milan e vediamo la paura che arrivi lui il sospetto è che quando ci arriva a me agli altri milanologhi la notizia che però il parere dei tifosi ha fatto un po' cambiare certe considerazioni su Lopeteghi le quotazioni sono in ribasso non vorrei che fosse per calmare un po' gli animi prima tra l'altro di queste ultime quattro partite in cui Milan avrà anche gare casalinghe e poi magari annunciarlo a giochi fatti quando non ci sono possibili contestazioni allo stadio eccetera eccetera questo è un po' la paura che arriva e il sospetto che magari è tutto fatto detto questo voglio aggiungere un'altra cosa ok poi magari dedicherò un video anche a questo aspetto io ce l'ho qui ancora le immagini di Ibrahimovic e di Furlani che se la ridono in tribuna in un momento in cui c'è poco da ridere di fronte a una partita tra l'altro pessima in cui la tua squadra la vostra squadra ha fatto zero tiri in porta e ho detto ragazzi io Maldini vederlo ridere così mai successo io ricordo Maldini col PSV che scuoteva la testa Ombroso non soddisfatto ed era una gara amichevole tra l'altro credo che ci fosse proprio in panchina Van Bommel e questi ridono e ridono ok avete capito perché hanno cacciato Maldini come si sarebbe potuta sposare questa apparente mediocrità con la voglia di vincere l'ambizione di alzare sempre l'asticella di Maldini punto di domanda se avessero proposto il nome di Lopeteghi a Maldini che cosa avrebbe fatto Maldini finite voi la frase ecco potete immaginarla qualunque ecco quella qualunque lì andato via Maldini tanti ironizzavano sul concetto di garante ragazzi questo è quello che che ci danno in pasto e ripeto Maldini aveva anche avuto le sue pecche anche a livello caratteriale però era garante e ora abbiamo un garante noi pensavamo pensiamolo anche tuttora fino a prova contraria che Zlatan Ibrahimovic sia quella cosa lì cioè quello che era quando giocava ambizione voglia di vincere non accetto la sconfitta alziamo l'asticella per tenuto tanto da me stesso ma anche dagli altri che poi è anche la filosofia di Conte la sensazione oggi lo dico da un po' da deluso è che a oggi Ibra non stia facendo il Maldini Ibra non stia facendo neanche l'Ibra di turno la sensazione è che oggi Ibra stia facendo il quasi a oggi da pomeriggio magari cambia tutto lo spero oggi sta facendo lo Zanetti dell'Inter cioè è lì figurativo Zanetti ogni tanto parla Ibra nemmeno e oggi è questo e quindi ribadisco caro Ibra condividete questo video ragazzi lasciate un like se la pensate come me si piega anche il microfono caro Ibra se ci sei batti un colpo perché se accetti una linea mediocre sprofondi anche tu nella tua nella mediocrità ed è uno simero Ibra mediocre sei tu il primo a dirlo no? è un ego importante non farlo non accettare questa mediocrità quindi aggrappiamoci ancora a lui speriamo sperando però che il discorso Lopeteghi che questo terribile sospetto non si concretizzi le parole di Marotta su Conte sarebbero da stampare e mandare però è meglio uno mediocre che prende meno meno ancora di pioli che non ti fa casino allenato fuori quindi sembra Lopeteghi e poi se viene Lopeteghi ovviamente io spero che Lopeteghi venga lo scudetto spero di essermi terribilmente sbagliato ma un giudizio lo si può dare prima e credo che la stragrande maggioranza di voi pensi che Lopeteghi non sia un profilo da Milan semplice e pare che l'USM sia addirittura non convinto su Lopeteghi i nostri invece Lopeteghi 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 con altre notizie anche un retroscena che ci raccontava non vi dico ancora chi molto curioso su quella che è stata la stagione del Milan commentate lasciate un like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella un abbraccio ci vediamo più tardi buona settimana venerdì ci vediamo alla festa vi aspetto numerosi qui sotto il numero potete mandare un messaggino per prenotarvi e mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale personale con l'orgoglio in questo momento può essere più complicato l'orgoglio di milanisti chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano vi aspetto numerosissimi e viva il Milan quello vero